L'Abruzzo sospende la somministrazione di AstraZeneca agli under 60, ma saranno garantiti richiami con Pfizer e Moderna, come disposto dal Ministero della Sanità, cercando di scongiurare lo slittamento dell'immunità di greggio fissato per fine agosto. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verira assicura i tanti abruzzesi preoccupati per la decisione del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che ha sospeso la somministrazione di AstraZeneca agli under 60 in seguito alla morte dopo la vaccinazione della ragazza ligure di 18 anni affetta da una malattia autoimmune. Le dosi di scorta dei vaccini Pfizer e Moderna dureranno fino a lunedì e le ASL dovranno riprogrammare in tempi record tutta la campagna vaccinale guidata da Maurizio Brucchi. Abbiamo necessità di far arrivare i due vaccini e anche Johnson & Johnson, spiega l'assessore Verira. Sono più di 75.000 le persone in attesa della seconda dose proprio con AstraZeneca, per cui in questo momento io ho già convocato per lunedì alle ore 13 un gruppo di lavoro insieme alle direzioni generali. Possiamo garantire una somministrazione fino a tutta lunedì, sia per coloro che chiedono la prima dose e sia per coloro che sono già in elenco per la seconda dose. Abbiamo richiesto ulteriore dose degli altri vaccini di Moderna, di Pfizer, aspettiamo le risposte da parte della struttura commissariale, però garantiremo la somministrazione dei vaccini a tutti i nostri corregionali. Chi si è già prenotato non deve riprenotarsi? Il nostro programma è pronto a rimodularlo. Con il sistema poste abbiamo già stabilito una riprogrammazione in base alle dosi. Coloro che si sono prenotati, se arriveranno i vaccini, continueranno ad avere quel programma già stabilito. Se dovessero mancare queste dosi dobbiamo riprogrammarle.